Quello lì è il secondo che vedo, l'altro l'ho visto a Dusseldorf Devi viaggiare perché non si può vivere di nazionalismo Ci sono tantissimi paesi che sono belli C'è Le strade impossibili di Kugulmata Grazie a tutti Grazie a tutti Fantastico Grazie a tutti 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 Direzione Berlino Dopodiché Cechin Borne su Linova Vediamo qua quant'è la benzina Uno Ma io qua la metterei sai E 10 La metto Un venti 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 Grazie. Un altro imbecille con l'Audi. Guarda, guarda se non è cretino, guarda. Meno male che lo lascio, va. Minchia che idiota. Dagli anni 80 Düsseldorf a oggi ha fatto un cambiamento che è pressoché irriconoscibile. Io sono andato a cercare dove abitavo, non c'è più, non c'è più, non c'è più. E drasticamente, guarda. Adesso non siamo a Düsseldorf. Stiamo andando verso Berlino. Cioè praticamente penso che taglierò fuori Berlino. Perché... Ma mettila, mettila la marcia, mettila. Insomma Düsseldorf si è quantomeno quintuplicata nella sua grandezza. E... Guarda che belle che stia. E... E bla 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 bla. Mi sembra già un po' la Polonia, eh. Continua per 1,5 km. Google ma... Dove mi stai guardando? Oh! Nelle campagne... Nelle campagne... E proprio in questi casi... In queste strade... Che devi... Quanto meno averti... La tannica di dietro con la benzina. In 400 m, turn left. Deve avere quanto meno la tannica con la benzina. Io adesso non ho più gas. L'ho finito, lo devo mettere. Aspetto di metterlo quando sono in Polonia. Mi costa di meno. Qua costa un euro. Carissimo guai, in Germania. Un euro. Aspetto... Guarda... Guarda... Turn left. Guarda... Guarda... Blank Sea. 3 km di qua. Guarda... Oh, guarda... 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 molto molto bene hai capito? come funziona? e meno male che non sono teste è un buon segno sono le 7 del 27 febbraio in questo piazzale del nulla c'è il KFC che aprirà le 8 e mi si è rotto l'acceleratore non funziona più schiaccio e morto non solo ma sono senza internet senza connessione alcuna e devo aspettare per forza che apra il KFC per avere la linea si è rotto l'acceleratore prima ero dall'altra parte là dove c'era il KFC mettendo la prima senza accelerare ovviamente perché non si può piano piano ho attraversato la rotonda e meno male che c'è il meccanico proprio dalla parte opposta della rotonda trovi nel mezzo del deserto che succede una cosa del genere non si sa che cosa fare ora bisogna aspettare che apra il meccanico questo è il pezzo dell'acceleratore gli ho detto è rotto va bene tutto è bene ciò che finisce bene macchina sistemata dovrò cambiare quel pezzo e cos'altro dovrò cambiare quel pezzo e pezzettini abbastanza arrugginiti però 80.000 km insomma adesso direzione Borne su Linovo me l'ha legato con uno strip di plastica al più presto lo dovrò lo dovrò sostituire quel pezzo speriamo che tenga mi ha detto sì sì tiene tiene ok vediamo un po' come va come è di qua ma perché prima stavo andando dall'altra poco fa ero dall'altra parte due ore fa adesso ci sono tutte le proteste dall'altra parte per come si chiamano i trattori i trattori i farmers anche qua protestano e voilà meno male che dalla parte opposta della strada di dove ero in mezzo al piazzale shopping center meno male che dall'altra parte opposta c'era un meccanico che non poteva fare nulla non poteva fare nulla perché prima di tutto era pieno di macchina e secondo non aveva il ponte per mettere sopra la la guazza è arrivato poi un altro meccanico che mi ha detto guarda io non te la posso fare però vai qua dietro c'è un altro meccanico e meno male me l'ha fatta subito c'era poco da fare però in ogni caso la devi mettere sul ponte capito? forse in casi estremi ma è devi essere in due lì devi essere in due per fare quel lavoro lì devi essere in due uno che schiaccia il pedale e l'altro che sistema il cristo se no era un casino ci voleva il meccanico meno male dalla parte opposta della strada sono andato a chiedere a uno che si stava per lavare la macchina scusa un meccanico vado dal meccanico erano le sette e un quarto apriva alle otto è arrivato alle sette e mezza meno male che nightmare adesso speriamo che tenga quel pezzo di plastica dopo di che dovrò cambiare dove sono i trattori poco fa c'erano tutti i trattori davanti adesso non ce n'è neanche più uno adesso mi trovavo in un posto vediamo un po' dove dove capita strada facendo troverai sono comprato una bottiglia di vino ci diamo una schioppettata voilà e concludiamo la giornata guarda che bello l'hai visto? bidronca vado al bidronca vado a comprare qualcosa interminabili strade in mezzo ai boschi eh vabbè apriamo un po' le finestre che cambia aria questa è la zona parcheggio cioè guarda che bella tutto bosco ma chilometri 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 di bosco l'unico problema ecco non so se si vede questa pavimentazione a lastre queste qua sono ancora le strade fatte dai tedeschi e stiamo arrivando finalmente a Borne-sur-Linovo è stato un lungo viaggio Borne-sur-Linovo ex base militare tedesca poi base militare russa ecco la pista ciclabile fantastica eh hai vista velocissima? e qui dove c'era la stazione che adesso non c'è più questa parte qua per me è fantastica pensare che zio Adolfo scendeva di qua a vedere le sue truppe siccome c'è anche la casa degli ufficiali e sotto ufficiali no? questa? ecco vieni zio di Porto vieni zio Adolfo eh mannaccia mannaccia ah ecco vedi da dove parte la pista ciclabile guarda proprio da qua e poi qua fa tutto il giro guarda proviamo ad andare di là ma non so se di là c'è la strada per uscire no di lì non c'è oh my god is he ecco la parte che dà la parte la facciata che dà sul lago della casa degli ufficiali e sotto ufficiali tedeschi questa parte dà sul lago fantastico il kit dell'esorcista questo lo devi girare giusto? no perché questo è per i al contrario quindi acqua santa e il Cristo fantastico guidare la Smart dopo aver guidato la Watts è una cosa proprio questo è un piccolo gioiellino ma ma proprio una una topolina piccola maneggevole pratica veloce consuma poco e la parcheggio ovunque ancora a Iabre buongior a tout le monde niente sterminati chilometri di poste ecco sono 79.700 chilometri dai e dovrei arrivare che sono a 80.000 80.000 chilometri vedi ne mancano 500 qua i popoli d'Europa gli arabi dicono semplicemente ma tu pensa i popoli del nord o meglio i popoli del sole guarda che carriera qua il ponte imalaiano freddo il decimo secolo il geogra il sole è pallido c'è umidità nevi i erozzi anche se forse non è interessante conquistare il loro paese mancano 120 chilometri a Cracovia miei cari colleghi e scollegati guazzisti iscritti e circoscritti sono arrivato quanti chilometri 80.310 chilometri non stop 630 chilometri non stop ho avuto delle punte di 95 chilometri orari superavo il camion stabilità zero cioè a superare i camion proprio stabilità appena capito ti muovi subito molto pericoloso ti sbatte subito fuori però ce l'abbiamo fatta back home meno male anche la plastica che mi è stata per sistemare il filo quella plastichetta sai gli strip la plastica gli strip ecco quella lì me l'hanno legata con un pezzo di scotch uno sputo si attacca la waz funziona grande sono veramente molto contento ed è set ciao un pezzo di scotch un pezzo di scotch un pezzo di scotch un pezzo di scotch